Parafrasando Oscar Wilde, non esiste alcuna cosa che il teatro non possa esprimere. Ed è proprio per questo che siamo qua, per mostrare come il teatro attraverso la parola recitata esprima bellezza e cultura. E la Rocca di Arona è un contesto ideale per comunicare quello che il teatro ci vuole dare, emozione.